Buonasera, buonasera, benvenuti a 12, il nostro nuovo programma sportivo di approfondimento dedicato al Catania e alla Lega Pro. Vi presento subito i nostri ospiti in studio, qui con me Giovanni Finocchiaro, inviato del quotidiano alla Sicilia. Giovanni, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. Accanto a te Cristiano Di Stefano, alla postazione social. Buonasera a tutti, pronti come sempre per interagire con voi, tra poco vi ricorderemo quali sono le coordinate per farlo. E ancora Fabrizio Ferrigno, dirigente del Catania, buonasera Ferrigno. Buonasera, buonasera a tutti. E poi Benny Greco, chi è Benny Greco? Benny Greco ha bisogno di una presentazione aggiuntiva, è il Benny che abbiamo elogiato pubblicamente ieri, durante terzo tempo, perché il filmato da lui postato su Facebook ci ha consentito di mandare l'highlight personalizzato del gol del Catania che purtroppo in diretta non eravamo stati in condizione dimostrati per motivi tecnici indipendenti dalla nostra volontà, ci tengo a ribadirlo e a sottolinearlo. E allora Cristiano, mentre ci fai vedere il nostro personalissimo highlights ancora una volta, io chiedo a Benny, intanto Benny raccontaci la storia di questo highlight in tempo reale postato su Facebook. Tutto il merito va intanto all'altro amico mio, tifoso Andrea La Rosa, che è qui con noi dietro le guide e ringraziamo. Che salutiamo e che ringraziamo anche che lui, mentre c'era la partita, è rendendo a riprendere, a fare delle riprese col cellulare, e ha ripreso quest'azione un po' combinata del Catania al centro, già stiamo vedendo il gol, e ha ripreso per fortuna il gol. Senza sapere giustamente che a Catania ci fosse stata questa assenza di segnale in rispettata, ha avuto un maltempo, non saprei, non sono un tecnico. Posso dire che solo da tifoso siamo contenti di aver fatto felici tantissimi altri tifosi in tutta Catania. Ecco, approfittiamo, Benny, per raccontare a questo punto la vostra esperienza da tifosi a questa prima trasferta di Lega Pro dopo tanto tempo. tornano le mete un po' meno note, tra virgolette, i campi più di periferia, però c'è un'epica di queste trasferte che comunque viene conservata. Noi da tifosi abbiamo sempre seguito la nostra squadra su tutti i campi, giustamente ritornare in Lega Pro è come fare un salto nel passato. Dovremmo dire tantissime cose, solamente che purtroppo ci ritroviamo in questa categoria e andiamo avanti a sostenere sempre la nostra squadra. Benissimo, quanto è stato faticoso? Quando siete partiti? Quanto tempo ci avete messo? Noi siamo partiti un giorno prima per riposare, anche perché eravamo con un bambino, il figlio di Andrea, che ha dieci anni, un grandissimo tifoso anche lui, Giovanni Andrea, che lo saluto, e gli stendi della strada c'è, sono circa cinque ore, cinque ore e mezza di automobile. E ritorno altrettanto? Ritorno altrettanto e poi considerando anche che il tempo non è stato nemmeno favorevole perché durante la partita si può dire che ha più avuto quasi di tempo. Fatica ripagata dalla soddisfazione di vedere momenti come quelli che abbiamo visto. Ma quando Catania vince non c'è tempo che ci possa dividere la nostra squadra del cuore, devo essere sincero. Bene, ringraziamo Benni per il suo contributo. Tra poco al suo posto troveremo Angelo Patanea, avremo anche Alessandro Vagliasindi che sono ovviamente con noi questa sera. Senza dimenticare il contributo di Angelo Gagliano che ci racconterà per immagini l'ultima giornata del campionato di Lega Pro perché potremmo farvi vedere tutti gli highlights del campionato di Lega Pro, una esclusiva Telecolor e poi ovviamente Angelo Micale, il quale è bloccato a letto dalla febbre, lo salutiamo, auguri di pronta guarigione ad Angelo. Giovanni, a proposito di trasferte, anche tu sei. Posso fare un inciso su Benni perché lui non lo dice, però poi quando parlano i tifosi del Catania e si scopri, lo so da tempo, che questo ragazzo spende tutto il suo tempo libero per aiutare dei bambini che soffrono, lo so che tu non lo volevi così detto in diretta televisiva, però tu spendi tutto il tuo tempo libero per aiutare economicamente ma soprattutto moralmente i ragazzi del Policlinico, i bambini del Policlinico che soffrono. Lavori e fai dei turni massacranti, poi prendi la macchina il sabato e vai in trasferta. Io ti porto come esempio, ma come esempio di generosità, che poi sei generoso e guidi cinque ore e vai a Matera un altro conto, ma che spendi tutto il tuo tempo libero per regalare un sorriso in più a bambini, non a persone adulte che soffrono, questo ti fa onore. Non so, io vorrei ringraziare anche sempre i tifosi che vengono sempre in massa alle strade delle beneficenze, anche il Calcio Catania che a dicembre, quando ci sarà la quinta edizione di un sorriso mancagliottro, che raccoglieremo le maglie dei calciatori dei nostri idoli, sono sempre disponibili da darci una mano. Questo l'ho detto per evitare che lui mi facesse la domanda sulle mie trasferte, perché sono delle odissee senza limite. Il tuo viaggio medico ce lo devi raccontare Giovanni anche per te, da San Siro all'Olimpico adesso a Matera, con tutto il rispetto per Matera è un altro. No, l'ho scritto oggi, ho fatto anche altre trasferte, perché quando il Catania è precipitato in eccellenza, va bene che andavo a riposta il mister Bianco e poteva andarci anche a piedi, però l'idea all'inizio della stagione di prendere la macchina e andare a Monopoli, Monopoli adesso, Foggia, Benevento, Pagani, già mi ha fatto arricciare i capelli più di quello che... Ho riscoperto ieri invece, così abbiamo discorso, ho riscoperto invece il calcio vero non professionistico all'ennesima potenza, ma questo abbracciarsi tra giocatori, collaborare quando un ragazzo è in difficoltà in campo, gli stessi tifosi che arrivano là, i giocatori che vanno sotto la curva ad abbracciare i tifosi, ho riscoperto quel clima, dico di periferia ma non per sminuire, quel clima genuino che avevo perso da anni, ora non che io voglia ripudiare la Serie A, per carità, perché quello è stato un sogno, spero che ritorni al più presto, però ho riassaporato quel calcio di periferia, forse sotto certi punti di vista ci fa bene, poi voglio dire, la delusione per quello che è successo il 23 giugno, per gli ultimi due anni scriteriati che il Catania ha condotto con i personaggi che sappiamo, soprattutto con l'argentino che non voglio mai nominare ma che è sempre nei miei pensieri, quello ci ha fatto veramente male, ma adesso considerato che del passato se ne debba parlare poco, andiamo avanti. Se potevo dirti solamente una cosa e chiudiamo, l'unica cosa che ieri mi ha fatto davvero piacere è stata la grande spinta che hanno dato i tifosi presenti nel settore ospite, la curva nord, ma il fatto che i ragazzi siano venuti a fine partita verso di noi, proprio a unirsi con noi, tutto ciò che non succedeva da tantissimi anni e questa è una cosa importante. Un momento di grande unione.